Hey la bella gente, benvenuti in questo prossimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Tutti ragazzi vi farò vedere come si fa il caffè italiano o napoletano o quello che volete. Quindi ovviamente restate sintonizzati fino alla fine per imparare come fare il caffè. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Questo più che un video rivolto agli italiani è un video rivolto a tutte le persone straniere che però vivono in Italia e che quindi parlano l'italiano o anche che non lo parlano perché probabilmente questo video sarà sottotitolato. Vi prego, smettetela di fare i caffè che sanno di acqua sporca perché io non posso resistere, vi giuro. Regola numero uno per fare il caffè. Bisogna usare la moca e non le macchinette quelle con le cialde. Non si usano, non è il caffè quello. Cioè sì, ok, ci può stare, ma la moca è la moca. Quindi direi di partire con il tutorial perché come potete vedere alle mie spalle sono le tre e mezza. Quindi inizio a preparare la macchinetta e verso le quattro la accendo così mi prendo un bel caffè che ne ho proprio bisogno in questo momento. Eccola qua. Prendiamo la piccola, intanto ne abbiamo l'altro caffè. E la prepariamo. Ok, dopo aver fatto tutto, ovviamente si deve riempire l'acqua con questo. Ok, cambio di programma, facciamo una grande. Stessa cosa di prima, si deve riempire questo d'acqua. Ok, poi si mette da parte questo e si mette il caffè qui dentro. Ok, preso il barattolo del caffè, prendiamo questo, il cucchiaino e riempiamo. Quando è pieno schiacciamo in modo da avere una cosa compatta del genere. Ovviamente questo va riempito in base poi ai vostri gusti. Bene, quindi come avete visto è davvero semplice, compratevi una moca e fate il caffè. Bene, vi prego. La prossima volta che vengo all'estero voglio avere un bel caffè. Ok, adesso è pronta per accenderla. E niente ragazzi, questo è stato un tutorial un po' ironico per comunque mostrare anche a chi vive all'estero o comunque a chi vive in Italia ma non è italiano come si fa il vero caffè. Quindi se anche voi ovviamente fate la moca, fate uno sopra e qua sotto nei commenti e vi prego di farla, proprio vi prego. Io intanto devo dare una sistemata a questo robo che ho in testa. E niente, direi che siccome questo video uscirà alle 16, come tutti i martedì e venerdì, ovviamente vi auguro buon caffè anche a voi e vado ad accendere così lo vado a bere. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se potete sapere mi lasciate un bel pollicione, su commentare, iscrivetevi al canale se ancora è fatto e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video. Bella! Ciao!